mai guardare il sesso se no diventi cieco testimonianza di bernardino galleano detto nadu nato a pianfei classe 1913 contadino nel 1902 mio padre era in argentina nel 1909 rimpatria per sposarsi nel 1910 ha il primo figlio nel 1912 il secondo nel 1913 il terzo nel 1914 il quarto poi arriva la guerra se no non smetteva la famiglia non era ricca più o meno tutte le famiglie della frazione ambrosi erano come la nostra due vacche e una scrofa nella stalla due giornate di terra e tre le affittavamo ma la nostra era una famiglia ordinata mia madre era in gamba imponeva una disciplina e lavorava come un uomo in casa mangiavamo a sette anni ero già da vacchè in una cascina di 40 giornate 30 lire di paga da marzo fino ai santi ero fortunato mangiavo a tavola con i padroni mio fratello invece era sfortunato era da vacchè in una cascina di gente avara in quei tempi i poveri passavano da una cascina all'altra a chiedere lemosina e la gente non dava soldi ma pagnotte di pane i poveri quel pane dell'emosina lo vendevano e i padroni mio fratello erano di quelli che lo compravano per darlo al vacchè dopo gli anni da vacchè ho incominciato ad aggiustarmi da manovale per le campagne del grano partivamo con la mesoera attaccata alla bicicletta andavamo sulle piazze di fossano sant'albano genola cavaller maggiore racconigi nel 1928 la paga era di 50 lire al giorno a lavorare da un sole all'altro a un giuale dietro la falciatrice alle gari covoni nel 1932 1934 guadagnavo solo più 11 soldi per cabala per ogni mucchio di 16 covoni a fare 44 cabale al giorno bisognava già essere svelti lavoravamo in cascine di 300 giornate il mangiare era buono e da bere ci davano acqua e menta uno dei pochi divertimenti di noi giovani era andare a vie nelle stalle andavamo a vedere le matote andavamo a giocare alle carte sotto il lume a petrolio avevamo la nostra squadra e tutte le sere giravamo a cercare le stalle più ospitali c'era la stalla seria e l'altra un po più libera se in una stalla ci facevano dire il rosario una sera lì non andavamo più a volte aspettavamo da fuori che avessero finito di dire il rosario spiavamo dalla finestra nelle stalle madre e figlie filavano la canapa o ricamavano si mettevano una castagna bianca o un fico secco in bocca per fare saliva inumidivano sovente le dita con la saliva per filare il ballo era l'altro nostro divertimento ballavamo nei cortili da ogni parte ma ballare era già un segno di libertinaggio cantavamo tanto le canzoni vecchie di allora una delle nostre canzoni preferite diceva è arrivato il maggio con il canto del cucù e il cucù invita il merlo siamo fuori dell'inverno la povera gente non barcolla più il sesso in quei tempi tanti giovani erano così timidi che non riuscivano nemmeno a parlare con una ragazza quello del sesso era un discorso proibito la morale corrente era questa per carità non bisogna mai parlare di quella cosa e mai guardare il sesso se no diventi cieco per molti giovani la prima esperienza coincideva con i giorni da bayette da coscritto si finiva sempre in una casa di tolleranza era poi la vita militare che un po svegliava i giovani fare l'amore era difficile le ragazze erano mica libere come adesso nelle ore del pascolo magari si diceva una ragazza hai bisogno di un manovale e se la proposta ardita andava a bersaglio tanto meglio anche sui balli si presentavano le occasioni era più facile concludere con le ragazze che non sapevano ballare che si annoiavano ai bordi delle ballere le ragazze ballerine erano più sveglie e sapevano come difendersi se credevamo nelle masche noi ci siamo allevati ascoltando i discorsi delle masche con quelle storie vecchie ci riempivano di paura un carrettiere aveva un bastone che batteva i cavalli un bastone che si e poi picchiava picchiava allora il carrettiere decise di bruciare quel bastone stregato lo buttò su fuoco e quel bastone bruciando faceva delle grita di santa maria se in quella famiglia succedeva una disgrazia subito si diceva sono le masche che ci hanno meledetti mettevano nell'acqua bollente gli abiti delle vittime così che aveva procurato il male soffriva le pene dell'inferno si raccontava che la tale donna del paese era una masca e si trasformava in gatto abbiamo buttato dell'acqua bollente su un gatto e il giorno dopo quella tale era a letto ustionata a certe donne del paese non bisognava far vedere un bambino appena nato perché quelle certe donne portavano il malocchio erano masche c'era chi giurava di aver incontrato di notte della gente vestita di bianco delle masche allora in quel punto lungo quella strada piantavano subito una croce o costruivano un pilone il pilone della monaca era un posto di masche quando la scrofa non allattava i maialetti bisognava farla benedire ma occorrevano tre benedizioni contemporanee e in tre parrocchie diverse anche quando i bigat non salivano non si arrampicavano lungo l'erica occorrevano le tre benedizioni gli zingari godevano la stessa cattiva fama delle masche se non si faceva la carità agli zingari succedeva una disgrazia in casa io non ho mai viste delle masche ma quella paura quell'affanno li portavo dentro di me una notte mi sono sentito portare via la calotta da in testa e subito ho pezzato alle masche la calotta era rimasta impigliata in un ramo un'altra notte al chiar di luna ho visto i cespugli che si muovevano e la paura mi ha preso poi ho sentito a fare beh beh era un greggi di pecore mia sorella quando aveva 13 anni soffriva di un male che la immobilizzava che la rendeva rigida e pesante allora l'hanno portata dal settimino di morozzo il settimino ha detto a mio zio certe sere sentirete qualcosa mia nonna buonanima una sera era al pozzo ha sentito un urlo straordinario mio zio in quello stesso momento si è sentito come a strozzare e mia sorella è guarita all'improvviso il matrimonio e le ciabre la festa del matrimonio durava due giorni il giorno delle nozze e il giorno del none al pranzo di nozze gli amici sistemavano sotto le sedie degli sposi brace e ginepro proprio come si metteva ai bigat per farli montare per farli arrampicare lungo l'erica ancora adesso si fa questo scherzo la ciabra veniva riservata a tutti i vedovi che si risposavano durava sei o sette sere fino a quando lo sposo non offriva da bere o da mangiare l'amburnà veniva invece riservata alla ragazza o al ragazzo che rompeva un fidanzamento per sposarsi con un altro o con un'altra con la calce e la segatura si segnava il tragitto che univa la chiesa alla casa del ragazzo o della ragazza tradita magari si disegnava anche un cuore trafitto con la scritta povera maria oppure lungo il tragitto degli sposi bene in vista si metteva una tegola con sopra un porro dritto che cosa ricordo degli anni del fascismo ricordo che il fascismo faceva tante promesse quasi come adesso ma problemi ne ha risolti pochi adesso almeno si può parlare allora guai a dire una parola di più chicken del basa una volta ha detto soltanto che la divisa fascista non serviva a niente ma cosa farne di quella baracca ha avuto tante di quelle grane frequentavamo i corsi preliminari per forza ci promettevano di toglierci sei mesi da soldato un bel vantaggio non soltanto non ci hanno tolto i sei mesi ma ci hanno fatto fare sette anni di naia e di guerra ho combattuto in albania con il 44esimo reggimento della divisione forlì quanta fame poi all'8 settembre i tedeschi mi hanno catturato in grecia e spedito in germania mi hanno poi liberato i russi il 25 aprile 1945 i russi ci hanno trattato bene i russi erano persone come noi